Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video riguarda il fatto di alcuni account bondati che hanno i miliardi, i milioni, che hanno i soldi bloccati diciamo, perché vedete se provo a chiamare il rino mi dice non ha abbastanza soldi, c'è un modo per spagare questa cosa. Praticamente dobbiamo andare sul conto, trasferire un milione in contanti e poi lo portiamo in banca e si sbagga. Non so il motivo, la Rockstar sta facendo qualcosa sicuramente per gli account diciamo moddati, quelli estremi. Poi praticamente se comprate qualcosa, adesso vi faccio vedere nel gameplay, se comprate qualcosa ve la paga. Avete questo problema solamente se chiamate o la Pegasus o l'assicurazione o il meccanico. Il problema è questo anche, se il meccanico non è stato pagato, dovete aspettare 45 minuti in sessione per farlo sbloccare, purtroppo per adesso è così. Comunque per avviare, per fare in modo che si avvengono i pagamenti tra assicurazione, Pegasus e roba varia, dovete, ripeto, trasferire un milione sul conto e ritrasferirlo in contanti, cioè è un'altra volta sul conto. Come vedete, se comprate qualsiasi cosa, ve la paga. Però se volete, ad esempio, vi faccio vedere tutto l'esempio, se voglio, qua ho sbagliato, stavo chiamando il meccanico, se volete chiamare la Pegasus, adesso vi faccio vedere, vi dice che ho abbastanza soldi, eppure siamo pieni di soldi. Quindi che faccio? Una volta che ho messo il milione in contanti, lo riporto nella banca. Adesso vi faccio vedere. Raga, qui ho coperto il nome dell'account. Vedete quel meno che c'è? Quello è quello che è uscito dopo l'aggiornamento. Però i soldi non sono stati persi. Però siamo buggati, diciamo, c'è questo blocco che hanno fatto, non so come definirlo, questa patch che hanno combinato, la Rockstar, e purtroppo non ci fa fare alcune cose. O per invidituare gli account moddati, i soldi moddati, non lo so perché l'hanno fatto. Come vedete in questo caso, mi ha pagato la Pegasus, e mi ha consegnato, vedete in fondo c'è anche il carammato che brilla, e che mi ha consegnato. Ora ve lo faccio rivedere, mettiamo un milione in contanti. Poi lo depositiamo un'altra volta. Adesso vi faccio vedere, sono uscito, vi entro. Vi faccio vedere che, se non faccio i due versamenti non va, purtroppo è così. Provo a chiamare il capogop, non è abbastanza contanti, eppure siamo strapini di soldi. Purtroppo è così. Rimettendo il milione in banca, ci si sbagga. Potremmo chiamare la Pegasus. Questa cosa qui l'ho notata solo su un account. Un altro account da un miliardo e sette, un miliardo e sei, non lo fa. Quindi, forse dipende da un tot di miliardi. Quindi, chi ha due o tre miliardi, mi sa che è questo problema. Adesso vedete, chiamo il capo Bob e me lo consegna. Adesso ve lo faccio vedere sulla mappa. Comunque, già vedete che brilla sulla mappa. Adesso la prova della mappa ve lo faccio vedere. Comunque, raga, per questo video è tutto. Spero che sia stato utile. Un saluto a tutti e, mi raccomando, fate bravi, che ti controllo. Ciao, alla prossima.